Buongiorno Liana e benvenuta al nostro caffè della mattina. Ciao Francesco, grazie dell'invito. Ci sono articoli sulle riviste, su internet, in televisione, si insiste molto sull'importanza di una sana alimentazione e quindi su questo dico subito che fa assolutamente bene a tutti, anche a chi ha eventualmente problemi di tipo psichiatrico, sicuramente una sana alimentazione aiuta. Su questo quindi non entriamo nel merito, però esiste anche una sorta di ossessione rispetto al margersano. Ecco, io quindi distinguendo quello che è una fisiologia, anzi un buon comportamento, da quello che invece è qualcosa di patologico. Vogliamo parlarne un po'? Certo, volentieri, si tratta proprio come l'etimologia dice, ortos, corretto, rexis, appetito, quindi proprio dell'ossessione del margersano. Quindi già parlando di ossessione vuol dire che siamo un po' oltre il confine tra la fisiologia e la patologia. Io ritengo proprio che si tratti dell'anoressia del terzo millennio, mentre negli anni 80 prevaleva la restrizione alimentare motivata da l'immagine estetica. Quindi oggi invece il problema non è l'immagine corporea, ma è invece un tema culturalmente accettato, come era culturalmente accettato negli anni 80 anche quello dell'immagine corporea. Oggi ci sono queste motivazioni salutistiche nella scelta qualitativa del cibo che fanno parte, come dicevi tu, di tutta una propaganda, forse anche in alcuni casi. Io azzardo a definirla trufaldina, questo del chilometro zero, del bio, eccetera. E quindi alla fine però il risultato in una persona particolarmente vulnerabile è la stessa dell'anoressia che siamo abituati a considerare in passato. Cioè privarsi di alimenti per motivazioni pseudo-salutistiche del tutto infondate scientificamente, col privarsi di alimenti anche fondamentali e raggiungere poi degli aspetti anche importanti di decadimento somatico come nel caso dell'anoressia nervosa restricter. Ecco, scusa, entrando un po' nel merito di queste condotte, puoi un po' spiegare bene quali sono gli aspetti che devono essere tenuti presenti per accorgersi che stiamo andando verso una vera patologia? Tradotto in altre parole, anche il caregiver, la persona che può essere accanto a una persona che ha questo tipo di condotta, deve forse, come dire, avere dei campanelli d'allarme per dire, amica, amico, c'è qualcosa che non va, paghiamone. Certo, questa necessità di stabilire il confine è proprio caratteristica di questo, di disturbi della condotta alimentare, proprio perché molto spesso le radici del comportamento sono un tema culturalmente accettato, la trappola è quella. Il problema serio, ecco tu ora facevi riferimento all'entourage, al caregiver, ed è importantissimo come spia di questo comportamento, come campanello d'allarme, ma noi dobbiamo anche considerare, se si tratta per esempio di donne, giovani, il disagio nei familiari che spesso fanaticamente, per l'adozione fanatica di tale stile alimentare da parte della paziente, finiscono con l'essere coinvolti, anche i bambini magari molto piccoli. Noi quante volte abbiamo notizia di bambini che specie d'estate arrivano defedati proprio perché figli di madri vegane o figli di soggetti che hanno uno stile alimentare di tipo ortoressico. Questo è uno degli aspetti importanti. L'altro è quello della implicazione sul piano della relazionalità di queste persone perché noi sappiamo l'importanza della convivialità per quello che riguarda i rapporti sociali e quindi queste persone non devono alimentarsi solamente di cibo preparato da loro stesse e quindi tendono a evitare il ristorante perché hanno tutta una serie anche di ritualità nella preparazione del cibo, eccetera. E quindi spesso mangiano da sole e sono fanaticamente convinte di una superiorità dal punto di vista anche etico, no? Perché parliamo dei vegani e si tratta di persone che appunto rifiutano certi cibi su base etica, no? Animalistica, insomma. E quindi tutto questo poi ha dei risvolti molto importanti, compreso per esempio il fatto che si tratta di soggetti che tendono, quelli di cui stiamo parlando, tendono anche ad adottare terapie omeopatiche e erano altamente rappresentati nei Novax durante il Covid, cioè è lo stesso tipo di atteggiamento. A questo punto tu mi potresti chiedere, ma il parallelismo con l'anoressia nervosa in cui l'immagine corporea veniva considerata proprio il nucleo psicopatologico, come si giustifica? Ecco, perché io sposterei il nucleo psicopatologico dall'immagine corporea alla modalità di pensiero monoideico particolarmente restrittivo e intenso che questi soggetti hanno e quindi andrei a ricercare quella radice di tipo autistico che è alla base di questo comportamento come dire fanatico e che oltretutto per l'anoressia nervosa è stata dimostrata in letteratura già anche da studi recenti e quindi il fatto che appunto noi pensiamo a una patogenesi di questo tipo chiaramente getta luce proprio sulla sensibilità agli aspetti culturali del momento che vengono poi perseguiti e che entro certi limiti sarebbero fisiologici come dicevi tu giustamente prima diventano patologici perché si tratta di un soggetto che tende a questo pensiero su base appunto come tratto autistico a questo pensiero ristretto, monoideico che praticamente nell'anoressia nervosa come anche nell'ortoressia nella sua variante del terzo millennio tende a diventare il fulcro della vita della persona e quindi ad occupare interamente lo spazio per cui queste sono persone che programmano cosa mangeranno tutta la settimana magari impiegano del tempo per andare ad acquistare nel posto giusto quel tipo di alimenti appunto che ritengono rispondenti ai loro canoni adottati così su base unicamente personale tra l'altro non è tanto che si parla di questo disturbo questo disturbo fa la sua comparsa alla fine degli anni 90, proprio alla fine del secolo scorso da parte di Bratman che ne era affetto, uno psicologo che ne era affetto e ne era come si dice tra virgolette uscito e quindi ha scritto un libro che peraltro è anche divertente da leggere e quindi consiglio non è per tecnici su questa eccessiva preoccupazione di un'alimentazione sana e quindi non c'è nella nosografia psichiatrica l'ortoressia quindi è una patologia emergente non ancora riconosciuta anche perché noi sappiamo che la nosografia psichiatrica e tutti i suoi cambiamenti nelle successive edizioni si basa proprio sui risultati degli studi e la letteratura ancora non è sufficientemente numerosa da poter conferire elementi di validità a questa categoria diagnostica per cui non è stata inserita nemmeno nel DSM-5TR insomma la nosografia l'ultima versione dell'anno scorso dell'associazione degli psichiatri americani che poi viene adottata in tutto il mondo e quindi c'è interesse comunque e nella letteratura scientifica c'è un progressivo aumento del numero di lavori su questo tema quindi viene studiata e quindi proprio ripeto la radice culturale che ha capovolto completamente i miti di ieri ecco però a questo proposito scusami c'è l'ultima domanda che volevo farti però collegata con un problema che penso anche a Inovax che tu hai giustamente un po' associato che è il tema della coscienza di malattia tradotto in altre parole io ho l'impressione che il vero problema e che forse spiega per certi versi la mancanza di dati ancora diffusi diciamo dal punto di vista della ricerca ecco il vero problema è l'alleanza terapeutica queste persone non si sentono malate e quindi come tale mi sembra che sia molto difficile che chiedano aiuto questo mi sembra il problema dei problemi hai centrato completamente loro non chiedono aiuto perché anzi sono convinti come dicevo prima di una superiorità rispetto agli altri che invece mangiano secondo loro cibo spazzatura e quindi naturalmente non chiedono aiuto per la mancanza di coscienza di malattia certamente ma l'aspetto fortemente disfunzionale come sempre quando si parla di una patologia di questo tipo che coinvolge la sfera appunto anche diciamo dell'adattamento psicosociale queste sono persone che passano ore al giorno per pensare al cibo sano nel senso che si programmano quindi chiaramente riducono come il paziente ossessivo perché poi la modalità di pensiero è la stessa che magari ti passa la mattina due ore in bagno nello svolgere i suoi rituali a brutto manici e poi alla fine magari decide di fare assenza dal lavoro perché ha fatto troppo tardi si vedi il problema però è che in genere spesso il paziente ossessivo come dire soffre del suo disturbo e a volte anzi molto spesso prova a chiedere aiuto cioè nel senso che al di là del rituale in cui si sente costretto a fare qui invece sembrerebbe che la coscienza della costrizione manchi e questo ho l'impressione sia un tema difficile cioè nel senso che come dire c'è la tendenza poi anche a ritrovarsi tra di loro cioè Bion direbbe che è un gruppo attacca e fuga cioè nel senso che c'è il nemico il cibo cattivo intorno a cui noi ci coesiamo ci coediamo e conseguentemente si abbassa il livello di possibilità di intervento se non in casi estremi tu hai fatto l'esempio dei bambini malnutriti allora c'è un intervento diciamo del pediatra o dell'ospedale ma non c'è una coscienza da parte per dire dei genitori di aver fatto una cosa che non andava bene dal punto di vista nutrizionale guarda il meccanismo è lo stesso il discorso è questo è il tema culturalmente accettato quindi questo delle virtù in un mondo occidentale in cui il cibo non manca chiaramente allora si dà questa connotazione sull'aspetto salutistico perché sicuramente non c'è in paesi del secondo mondo non c'è nel terzo mondo è tipico proprio del nostro mondo occidentale ora il discorso è questo l'ossessivo sa bene che non ci si deve lavare le mani per due ore lo sa che sono pulite e non può farne a meno e quindi c'è l'aspetto egodistonico che vuol dire semplicemente cioè si rende conto che è eccessivo però non può farne a meno questo naturalmente la trappola di questo tipo di comportamento è che trattandosi di un tema culturalmente perché voglio dire ma chi può negare che è meglio mangiare cibo sano rispetto all'altro e in quello consiste la trappola tu pensa che lo stesso tipo di meccanismo per esempio nel medioevo perché c'è sempre esistito questa modalità diciamo di sfunzionare di pensiero era per esempio legata all'aspetto religioso agli aspetti ascetici pensa a Santa Caterina è un po' nota a tutti la patologia se ne è parlato tanto ecco lì la motivazione è di avvicinarsi a Dio quindi eliminare tutto quello che lei assumeva o addirittura negarselo gli serviva per avere per avvicinarsi a Dio e poi c'è sempre anche vedi che il confine col disturbo ossessivo poi viene scavalcato in alcuni temi l'ideale di purezza e si riva agli aspetti insomma un tema di questo tipo tra l'altro se gli ascoltatori fossero interessati ad approfondire consiglio la visione di un film del 2014 Hangry Herz Cuori affamati di Saverio Costanzo tratto da un libro molto bello il bambino indaco dove vediamo proprio la traiettoria grave di un comportamento inizialmente ortoressico e quindi si potranno rendere conto cioè quello addirittura di la protagonista che oltretutto due attori eccezionali quindi insomma anche un bel film la protagonista addirittura sul terrazzo del palazzo in cui abitava aveva fatto un piccolo orticello lei si vede benissimo lì è proprio un esempio degli aspetti negativi sui figli sulle persone dalle cui cure dipendono insomma cioè a cui prestano cure questi pazienti insomma compresi gli aspetti legali perché tante volte durante cause di affidamento ai figli eccetera viene imposto dal giudice che il figlio debba mangiare la carne due volte alla settimana alla madre vegana o al padre insomma e quindi è compreso addirittura proprio l'evoluzione estrema io credo che questo tema hai fatto bene a proporre questo tema e di parlarne ricordo tra l'altro Angry Hearts un film molto bello si svolge in New York anche se fatto da un italiano molto bello e credo che sia importante parlare di questi argomenti vedi Liliana perché sono quegli argomenti un po' a confine tra un sano comportamento alimentare e una grave patologia che credo chi ci ascolta debba come dire portarsi a casa come messaggio cioè nessuno di noi dice e qui concludiamo che fa male mangiare bene nessuno lo dirà mai mai ma da questo a trasformare la propria vita come dicevi tu in funzione del cibo come dire è qualcosa di estremamente patologico e io credo che se non c'è coscienza di malattia da parte di chi la pratica il messaggio che vorrei che uscisse da questo nostro colloquio è che chi sta intorno a queste persone c'è da augurarsi che non sia come dire copatologico ma rendendosene conto chi è d'aiuto certo bisogna essere in due sempre in psichiatria in medicina per curarsi il medico che cura il paziente che vuole farsi curare ma comunque quanto meno rendersi conto che stiamo parlando di patologie sia estremamente importante ti ringrazio molto è stato un ottimo grazie a te voglio chiudere con una chiosa sarebbe un tema da educazione nelle scuole da psicoeducazione nelle scuole questo per i nostri insomma giovani sono totalmente d'accordo alla prossima ciao anche a te